Nella battaglia delle scarpe super shoes, ossia quelle che vi consentono di correre velocemente a lungo e di avere la migliore economia di corsa, entrano di diritto le Endorphin Pro 3 di Soconi che sono state lanciate la settimana scorsa a Parigi e delle quali abbiamo avuto a disposizione un modello test ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche, stiamo parlando di una scarpa di 204 grammi Drop 8, 39,5 mm nel tallone, 31,5 mm nell'avampiede, la solita Intersuola Power Run PB della quale però è stata migliorata sicuramente la sensazione in corsa grazie a una mescola leggermente più morbida ma che al tempo stesso grazie alla piastra in fibra di carbonio vi farà correre velocemente e a lungo. Dato che siamo un canale tecnico non facciamo recensioni senza aver provato la scarpa estensivamente quindi nei prossimi giorni faremo una recensione completa per ora ho lasciato la parola al prodepodista che da casa mia purtroppo non dalla pista di Garbagnate ci racconta pregie, difetti e le prime sensazioni di questa scarpa voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale nei prossimi giorni sicuramente faremo la recensione completa anche perché i nostri grandissimi Minion vogliono vederci correre velocemente io che ho appena ripreso sono super felice, nei prossimi giorni vi racconto tutte le mie disavventure ma soprattutto cosa farò nei prossimi giorni per tornare a correre davvero velocemente e in effetti testare queste scarpe che secondo me potrebbero quest'anno rappresentare una delle migliori innovazioni dell'anno e di conseguenza essere i piedi di tutti i polisti amatori più evoluti. Ciao alla prossima! Andrea sappiamo che settimana scorsa Soconi ha lanciato le nuove Endorphin Speed e Pro in questo caso vogliamo fare le prime impressioni delle Pro le hai provate soltanto in giardino dovevamo andare in pista ma poi io non sono stato disponibile come sta innanzitutto e cosa ne pensi di questa scarpa? Intanto pensavo che fosse la versione da donna a me piace ma tutta rosa così e no sono belle da vedere mi sembra un ritorno al passato con la tomaia che mi viene difficile adesso da pensare ma già tipo la Kimbara 2 mi ricordo che aveva quel motivo lì un po' nido d'ape le hanno alzate molto rispetto alla Pro 2 diciamo che non ci azzeccano molto. Ricordo vividamente il fatto che fossi andato a un negozio di Detroit a comprare le Kimbara 1 e quindi quando ho avuto in mano queste scarpe sono davvero stato molto contento ma io te le lancio e poi dimmi secondo te a chi sono adatte sei pronto? Ho paura che se le lanci così prendi la telecamera. E infatti anche io ho paura di questa cosa te le lancio quindi così vai. E' bello che le lanci sempre guarda sei pronto guarda qua come si lancia. Non lanciarmi non lanciarmi dimmi a chi sono adatte secondo te queste scarpe? Allora intanto presi in mano sembrano molto più leggeri delle altre invece no sono praticamente identiche. Sono 204 grammi è giusto per essere precisi. E la Pro 2 era? Poi metto sopra l'informazione. Non eri pronto alle mie domande. A chi sono adatte queste scarpe? Beh sono scarpe adatte a chi vuole correre forte. Siamo sempre lì. Le sfrutterà di più sicuramente uno che corre sotto le tre ore in maratona per dire o deve correre un e 25 o un e 20 in mezza in giù oppure chi deve fare 10 chilometri sotto i 35 però c'è tanta di quella schiuma che secondo me aiuta un po' un po' tutti. Anche perché il plus secondo me di queste scarpe per chi va più lento è che comunque sono 200 grammi rispetto a 300 di una di una scarpa da lento e comunque c'è tanta tanta schiuma che che mi protegge quindi sto pesando una chimbara per dire non regge il confronto con questa dopo dopo metà gara. Sì non so esattamente quale sia l'economia di corsa e questo non è parte del marketing che ho letto dell'azienda americana di questa scarpa però secondo me è almeno la mia prima impressione allo stesso livello delle scarpe competitors. Chiaramente poi nei prossimi mesi faremo le classifiche. Cosa ne dici? Finché non le provo in gara non ti so dire se sono a livello delle altre sicuramente rispetto alla Pro 2 hanno fatto un salto in avanti molto più scarpa da gara rispetto alla Pro 2 hanno messo una mescola relativamente più morbida e molto più mescola rispetto alle Pro 2 quindi hanno fatto sicuramente un salto in avanti non ti so dire se a livello di di Vapor o di Adiospro 2 ma si potremmo essere arrivati quasi. Sì beh sicuramente noi facciamo dei test tra virgolette abbastanza precisi e ci vuole tempo per queste per questi test. Invece a livello di Tomaya come l'hai vista e che sensazioni ti hanno dato correndo qua nel giardino? Allora la Tomaya ti ripeto e adesso devi devi andare a ricercare i vecchi modelli a parte che su Google quando ricerchi i vecchi modelli non li trovi praticamente più ma sono sicuro di averla già vista in casa Sao con questa questa trama della Tomaya leggera Zara zarrissima poi cioè si guardi qua i pezzi in oro sul Power Run PB e la volevano Zara come scarpa e sembra un po' un Power Ranger anche a vederla così. Tomaya il problema che secondo me è un po' cedevole qua all'interno infatti la stabilità della scarpa va a perdersi un po' per colpa da Tomaya almeno questa è la sensazione che mi ha dato e poi l'altra cosa che ti dico ma te la dico sottovoce è che secondo me l'alluce rischia di bucarla precocemente questa Tomaya. Vabbè questo lo vedremo nei prossimi mesi chiaramente non si può dire è solo come direbbe qualcuno una speculazione. Un'illazione. Guarda qua comunque il tallone praticamente ha una conchiglia minimal una conchiglia minimal data più da da un doppio strato di Tomaya un pochino di morbidezza sto guardando la linguetta che è davvero strana rispetto le altre sicuramente più comoda quando la vado ad allacciare la scarpa perché non si arriccia e poi guarda qua che ci sono tutti questi buchi qua che la rendono particolare mi piace morbida dove deve essere morbida e racing dove deve essere racing. Invece a livello di intersuola l'hanno come hai detto tu ammorbidita ma l'hanno anche alzata cosa ne dici? Cosa vuoi di più dalla vita tranne il bucone qua che mi fa un po' di paura ma non darà nessun problema anche perché è un sasso così grosso è difficile da trovare che si incastri proprio sotto la scarpa è vero che se una cosa deve andar male sicuramente andrà peggio ma davvero è non ci voglio neanche pensare c'è il buco anche qua davanti dove c'è scritto speed roller technology comunque sì e cosa vuoi di più dalla vita hanno messo più schiuma nell'intersuola e la resa più leggera davvero non potevamo chiedere di meglio. Invece Andrea a livello di battistrada come l'hai vista anche lì secondo me c'è stato un miglioramento abbastanza rilevante? Allora miglioramento non lo so diciamo che più caldo perché con la pro 2 non mi ritrovavo a srucciolare in giro tant'è che ho usato la pro 2 in una gara boschiva non ho avuto grossi problemi sicuramente anche questa è una bella un bel battistrada ti dico la gomma è morbida quindi comunque farà sicuramente una buona presa le intagliature qua che sembrano dei tacchetti un po più lunghi li avrei fatti forse un millimetro ancora più alti sarebbero stati il top del però credo che anche così vadano più che bene poi ti ripeto è una gomma del battistrada molto morbida quindi va bene così. Invece a livello di spazio nell'avampiede suggeriresti lo stesso numero oppure mezzo numero in meno o in più perché comunque questa è una scarpa da gara? Io qua ho provato il tuo numero mi è stretto mezzo numero in più secondo me è giusto qua forse è meglio che lo dica tu sempre se mezzo numero in più è lo stesso numero ma io credo di propendere per lo stesso numero. Sì quindi se tu avessi un 9,5 in un altro marchio dello stesso marchio Soconi prenderesti comunque 9,5? Sembrava una super cazzo l'ho fatto fatica a capirla ma credo di sì prenderei il mio stesso numero solito stesso numero sì invece andrea secondo te uno degli aspetti che citavi è il fatto che potrebbero essere tra virgolette instabile anche perché la costruzione della scarpa stessa per definizione è instabile una scarpa di drop 8 e come l'hai vista camminando e anche correndo? Correndo per assurdo mi cede di meno il piede che camminando camminando do proprio adito a questa parte qua di cedere guarda guarda come davvero strutturata ecco se dobbiamo fare i recensori seri è poco strutturata poi quando corri comunque una ripeto c'è tanta schiuma si corre gli avampiede quando si corre forte fondamentalmente si va un po a mitigare questo problema è peccato cioè peccato qua comunque hanno provato a cercare di dare un po più di sostegno c'è più più schiuma zona mediale secondo me dovevano metterci qualcosa in più nella tomaio ovviamente poi il peso conta molto e chiaramente questa è una scarpa per super atleti come puoi essere tu o con un piccolo ego anch'io io sono un super atleta ti voglio bene chiaramente parleremo nei prossimi giorni di quanto questa scarpa possa durare e in che condizioni utilizzarla però anche nei prossimi giorni parleremo del confronto con con le speed 3 hai visto un video e comunque non te l'ho ancora fatte avere a disposizione però secondo te basandoti sulla tua esperienza precedente conosciamo abbastanza bene questo marchio cosa ne pensi a chi suggeriresti l'una piuttosto che l'altra se mi dici che la speed altra come questa non aveva fatto un'ottima una super scarpa da allenamento e questa è una super scarpa da gara quindi fondamentalmente il martedì il giovedì e forse la domenica utilizzare la speed mentre domeniche di gara utilizzare la propria la speed 36 queste 39 5 ma gli speculatori dicono 39 9 chiaramente il prezzo è relativamente diverso non è così aggressiva a livello di rigidità della della scarpa stessa però credo che valga la pena utilizzarla per per gli allenamenti poi la domanda che mi pongo è sempre val la pena utilizzare le super shoes anche per gli allenamenti oppure non la cosa non lo consigli io dico sempre anche sto facendo il contrario che se c'è la possibilità di non usare le super shoes per gli allenamenti è meglio anche perché ti tieni il bonus super shoes per per le gare va bene grazie andrea stay strong che te la farò provare in qualche gara nei prossimi giorni adesso facciamo il video comunque ci vediamo alla prossima e chiaramente nei prossimi giorni ulteriori recensioni so con i azienda che sta crescendo molto a livello mondiale ma anche in italia va bene adesso vediamo la prima gara che si può la uso andiamo a prenderci un coffee si e vi ricordo sempre i coffee perché ci sono le invincible ancora da pagare se no ve le vede a chiedere max a me quei soldi grazie grazie vi vogliamo bene